Questa conferenza spettacolo è partita da un'idea del 2017, un'idea che appunto hanno avuto i titolari della Cinemobile Foundation che hanno contattato Enrico Fontana che fa parte della Segreteria Nazionale di Lega Ambiente e che per tanti anni ha curato il rapporto Ecomafia di Lega Ambiente. Quando noi abbiamo visto il trailer di questa conferenza spettacolo abbiamo subito pensato che dovevamo comunque farla arrivare in Sicilia e se arrivava in Sicilia doveva arrivare ad Agrigento perché c'è veramente tantissimo bisogno di creare consapevolezza soprattutto fra i cittadini cioè renderli consapevoli delle loro responsabilità e di come appunto tante volte inconsapevolmente si alimenta il ciclo illegale dei rifiuti pertanto ci siamo determinati a organizzare una vera e propria tournée perché lo spettacolo appunto è già andato in scena ieri a Partinico e nei prossimi giorni dopo Agrigento sarà a Pozzallo, poi a Piazza Armerina e si concluderà con Palermo. Abbiamo visto che i ragazzi hanno partecipato veramente con grande interesse e anche grande entusiasmo per il modo in cui il tema viene trattato e riteniamo che assolutamente la comunicazione deve essere curata al massimo dai comuni che partono adesso con la raccolta differenziata perché l'informazione e la formazione dei cittadini è la base di tutto.